... Insiste nella sua azione. Parato eccezionale questa! Va centralmente. Occasione per il vantaggio. La porta era rimasta incustodita e lui non ha sbagliato. Può far male da lei. Occhio a Bachelet. Il portiere può respingere, il pallone che resta lì. E il pallone va dentro, nonostante la prima. Trova l'imbucata per il compagno. Gerrard! Rallenta l'azione, non è finita. La mette in mezzo. E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completa. Rodrigo. Occhio alla palla a gol. Il portiere non la blocca. Palla ancora in gioco. Scocciola è complicata per la difesa. Palla in rete. Trova. Il suo talento. Stiamo parlando del miglior realizzatore di questa formazione. Vabbè! Miracolo del portiere. Pallone gestito da Gerrard. Palla interessante per scavalcare la difesa. Tetta l'imbucata. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone. Neymar. Grande parata. Super portiere. Benieter. Benieter. Rete. È arrivato il primo gol del match. Sono riusciti finalmente a concretizzare il proprio dominio. Neymar. Palla buona per Neymar. Vince di no. Tuffo prodigioso. Posizione laterale. È in buona posizione. Ottimo riflesso del portiere. Occhio da lì. Questo è il gol che vale la parità. Occasione per Pappé. Ha mirato all'angolo ma ha esagerato. Pallone che... Ha la palla il possibile vantaggio. Il portiere non la blocca. Palla ancora in gioco. Pareggio che regge. Provano con il tiki-taka ad aprirsi un barco. Pallone in rete. E rimettono la freccia grazie a questo gol. Occhio a Quagliarella. Fabio Quagliarella. Palla che finisce sul palo. Jones. Occasione per Pappé. Il gol che dà la situazione di parità. Giocare per altri 60 secondi. Ecco Pappé. Non hanno più molto tempo. Devono affrettare le operazioni. Lui serve palla. Ma è pressato. Respinge il portiere. Ballone ancora buono. E c'è la rete. Passa in vantaggio. Quando manca poco. È finita. Un ottimo risultato per la squadra ospite.